Terza vittoria consecutiva per il basket Bellizzi che supera sul parquet del Pala Berlinguer il promobasket Marigliano. In una partita combattutissima chiusa sul 57-50, la societale presidente Nicola Pellegrino ha voluto dedicare la vittoria al compianto grafico del sodalizio gialloblumi che le buonanno, scomparso prematuramente il 23 ottobre di due anni fa. I ragazzi di coach Pierluigi Orlando soffrono Marigliano nel primo quarto subendo uno svantaggio di 8 punti, dal secondo quarto i padroni di casa cominciano a macinare il gioco e ridurre le distanze prima con un più 4 e poi con un più 8, l'ultimo quarto viaggia sul filo dell'equilibrio con un finale di più 3. I canestri di Midreton, Spinelli e Valentino e il calore immancabile del tifo sugli spalti sono stati poi decisivi per la vittoria della basket Bellizzi. Tre vittorie su tre, presidente Pellegrino, ma questo basket Bellizzi dove vuole arrivare? Noi ci auguriamo di arrivare molto lontano, sicuramente il morale è alto dopo queste tre vittorie, anche se quest'oggi magari abbiamo sofferto un pochino più del dovuto con una squadra ostica, molto dura, che difendeva molto chiusa. Diciamo che in questo momento la stagione sta rispondendo alle nostre aspettative, c'è ancora molto lavoro da fare, c'è ancora tanto da migliorare, ma è un buon biglietto da visita per questo inizio di campionato. Noi siamo estremamente soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo e siamo più che convinti che possiamo soltanto migliorare da qui alle prossime partite di campionato. Domenica prossima c'è già una partita molto importante e quindi vogliamo arrivarci pronti, vogliamo arrivarci carichi e meglio di così non poteva essere. Anche perché oggi decorre l'anniversario della scomparsa di un nostro grande sostenitore, Michele Buonanno, che è morto due anni fa, ci tenevamo particolarmente a potergli dedicare questa vittoria e a poterlo ringraziare ancora una volta per tutto quello che ha fatto per noi. Ultima battuta, Presidente, adesso ci vuole il poker. Per scaramanzia non lo diciamo, però è sicuramente auspicabile ed è ciò che desideriamo di più. Vincere per la quarta volta consecutiva sarebbe il modo migliore per stabilire che in questo campionato vogliamo dire la nostra e che vogliamo arrivare fino in fondo da vincenti e da potenziali vincitori di questo campionato. Il sogno continuo. Il sogno continuo.